Il trillo, nel flauto come negli altri strumenti, è un abbellimento che consiste nell'esecuzione di due note vicine di tono o semitono. L'uso del trillo nasce principalmente nel periodo barocco, storicamente in ambito vocale, per l'esigenza espressiva di dare movimento a una nota altrimenti lunga e ferma. Prendiamo per esempio un trillo si-la. L'importante è cercare di far partire il movimento da questo punto della nostra mano, in questo modo. Cosa fondamentale del trillo è studiarne la regolarità nell'esecuzione. Prendiamo quindi questo semplice esercizio. Con l'ausilio di un metronomo, per esempio, suoneremo prima semi-minime, terzine di crome, semicrome e terzine di semicrome. L'ausilio di un metronomo, per esempio, suoneremo prima semi-minime, terzine di crome. L'ausilio di un metronomo, per esempio, suoneremo prima semi-minime, terzine di crome.